lui è il maschio silver che ha le zampine bagnate perché ha giocato con l'acqua vediamo le tue zampine dai è un silver silver si è un fincilla silver perché le zampine dietro non sono molto scure buono buono fatti vedere vedete quanto sei bello dai ciao eccolo qua lui invece è il maschio golden eccolo qui il maschio golden ciao ecco questo che sta pasticciando con l'acqua invece è una femmina che tutte le zampine bagnate è una femmina silver che ha fatto un bello fattiucco poi eccola qui la femmina silver lui è thomas che è il secondo maschio è più normotipo, è più lungo dell'altro gatto poi chi manca? vediamo chi può finire, eccola qui questa signorina è una femmina ciao, molto ubicata, molto tenera però ti faccio poi ti manca la persona bianca guarda, enormi numeri di colpa di tutti guarda, di qua, fatti vedere eccola qui che gioca la piazza qui c'è la persona bianca ecco qui siamo su il nipù qui c'è un'altra lei, anche lei, vediamo se sei cincilla, silver, 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 shell, vediamo cosa stai e mi maniamo le zampine bagnate addio, non si vede nulla comunque lei, la cincilla silver perché ha un po' di diritto qui c'è le zampine capriola chi viene? chi viene a far scicare il filmato? ok, sto giocando lì andate, filmiamo qui e anche lei è un'altra femmina golden quindi golden ci sono un maschio e una femmina fatti vedere ciao va, si è l'anticata vediamo con la scaletta ciao no no, non la prendi la macchina allora eravamo rimasti facciamo l'epilogo tu sei una femmina chi è? è una femmina è questa qui fatti vedere un po' lui è maschio ricordo si chiama Thomas che si è messo nel tubo il tubo noi lo apriamo e lo vediamo ciao ciao non si può giocare così poi che non è un pochino eccolo poi qui c'è questa è una femmina è proprio silver shed al 100% poi fanno vedere chi sei aspetta un attimino molto carina vediamo se sei maschio o femmina lei è una femmina silver shed perché ha la zampina cura un po' perché la mano non scappare fatti vedere un pochino non è molto non è né più tipica e neanche tanto tanto non è tanto non è tanto non sono più lungo c'è la maschio anche molto dolce anche molto dolce poi ritorniamo con l'altro maschio quello che è più normotipo però il bello è che avrà sempre gli occhi molto spiriti e poi è anche molto tenero come peraltro la scusa lei è femmina manualmente presa ho fatto un piccolo proprio testa per chi voleva giocare facci vedere bene miau miau poi pizza adesso c'è il vuoto il braccio va non è venire a giocare abbiamo deciso di guardare l'altro posto no di su qui miau 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 non vuoi essere più maschio ok lui è maschio credo che sia due maschi ci sono silver quello quello con il musino più lungo è lui più non è che cari che che fare ma non è è che Poi c'è la persona bianca, no, tu sei grande, tu sposta. Poi c'è la persona bianca, allora, maschio, maschio, due maschi, venite qua, uno e due, mettetevi vicini vicini, dai, oppla, due maschi, tu fatevi vedere, oppla, chi ha, ok. Ok, un maschio più tipato, e l'altro maschio, mi sono più lungo, il terzo maschio è quello golden, femmina, allora, adesso i maschietti li voglio giù, 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 femmina, Femmina, lei silver shed, scura, poi, buona.